Cività vecchia conta attualmente poco più di 200 casi, ma il Covid-19 torna a fare paura, soprattutto per quello che succede in Cina. Nel frattempo l'Ansla Roma 4 comunica gli aggiornamenti sulla gestione dei casi positivi e dei contatti stretti, il servizio. Il Covid torna a spaventare soprattutto per quello che sta avvenendo in Cina e nel frattempo in Italia cambia la gestione dei casi positivi e i contatti stretti. A riportare gli aggiornamenti è l'Ansla Roma 4 che spiega come le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico sono sottoposte alla misura dell'isolamento con diverse modalità. Per i casi asintomatici da almeno due giorni l'isolamento può finire dopo cinque giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico molecolare. Per i casi che sono stati sempre asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei cinque giorni, con test negativo effettuato presso struttura sanitaria o farmacia, quindi ufficiale e non casalingo. Per i soggetti immunodepressi l'isolamento può concludersi dopo un periodo minimo di cinque giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare negativo. Capitolo a parte per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno due giorni l'isolamento può terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo. L'azienda sanitaria ricorda che è obbligatorio a termine dell'isolamento l'uso di mascherine FFP2 fino al decimo giorno dall'inizio dei sintomi o dal primo test positivo ed è raccomandato evitare persone ad alto rischio ed ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività ad un test antigenico o molecolare. In caso di contatti stretti con persone positive si applica il regime dell'autosorveglianza con uso obbligatorio della mascherina FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al quinto giorno successivo all'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi è raccomandata l'esecuzione di un test molecolare o antigenico. Gli operatori sanitari invece devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto stretto. A Civitavecchia la situazione ufficiale resta sotto controllo con 207 positivi totali sul territorio comunale con un incremento di circa 20 casi al giorno. Ma stando alle stime dell'azienda sanitaria in realtà i contagiati sarebbero molti di più visto che tanti non effettuano più il tampone in una struttura sanitaria o in farmacia ma preferiscono fare quello domestico evitando così di denunciarsi. È stato indetto un concorso per 5 ormeggiatori nel gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del Porto. La procedura è finalizzata all'iscrizione nel registro di questa categoria. Le candidature dovranno essere presentate entro il 26 gennaio. Tra i requisiti che vengono richiesti nel bando c'è anche quella di aver effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili o militari o navi da di porto. Inoltre bisogna essere in possesso di un titolo professionale di capo barca per il traffico locale o superiore purché abiliti al comando dei mezzi nautici necessari allo svolgimento del servizio, di un'iscrizione nella prima categoria dell'agente di mare e della patente di guida di categoria B. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova pratica dove chi avrà conseguito un ponteggio non inferiore a 32,45 saranno ammessi a sostenere una prova teorica. Dal caro benzina all'investimento mortale di Marco Totaro passando per la tromba d'aria che colpì Sant'Agostino alla morte del ragazzo egiziano che faceva il bagno alla marina. Sono alcuni dei video più cliccati sul canale youtube di Telecivita Vecchia. Vediamo la top 10 del 2022 in questo servizio. Video che per diversi motivi diventano virali. Guardando le visualizzazioni del canale youtube di Telecivita Vecchia anche il 2022 ha avuto tanti temi che hanno colto l'attenzione più di altri dei nostri telespettatori. Il video che ha avuto più clic per la precisione 16.800 è quello relativo alle interviste che avevamo realizzato nel momento in cui si registrava il caro benzina a cittadini e gestori delle stazioni di rifornimento. Al secondo posto la cronaca con 10.300 visualizzazioni si è piazzata la tromba d'aria che a settembre ha colpito Sant'Agostino provocando ingenti danni alle abitazioni e alle serre albane. In tanti hanno voluto osservare con attenzione le immagini della tromba d'aria e di quello che ha lasciato dopo il suo passaggio. Sul gradino più basso del podio con quasi 7.000 visualizzazioni una notizia che in tanti aspettavano in città. La decisione di Enel di non prevedere la trasformazione a turbogas della centrale di Torre Valdalica Nord. Al quarto posto ancora la cronaca con le immagini della morte in seguito ad un malore avuto in acqua di un ventenne egiziano che stava facendo il bagno alla marina. Altro tema che fece schizzare le visualizzazioni, circa 5.000, fu ad inizio 2022 il parere delle persone sul super green pass e l'obbligo vaccinale con i favorevoli da una parte ed i contrari dall'altra che si sfidarono a colpi di ragionamenti più o meno convincenti. Poco sotto, al sesto posto, le immagini della vittoria dello Scudetto da parte del Milan con tanti tifosi rossoneri che si sono riversati per le vie del centro, in particolare al Viale, per festeggiare la conquista del diciannovesimo tricolore. Settimo posto per la presentazione a Civitavecchia per la corsa al Parlamento di Italexit che poi non ebbe relativo riscontro alle urne rimanendo fuori da Montecitorio. Ottavo posto per la cronaca con il 32enne fermato perché aveva tentato di gettare la ragazza dal balcone di un band and breakfast. Al penultimo posto della nostra top ten, ancora cronaca con la mega rissa che si registrò al Pirgo, con un giovane costretto a rifugiarsi in un bar per sfuggire al linciaggio di un gruppo di ragazzi. Ultimo posto per l'incidente mortale in cui perse la vita Marco Totaro, l'operaio pugliese che lavorava a TVN investito da un pirata della strada sull'Aurelia. Civitavecchia non è mai stata così bella durante le festività natalizie. Luminarie e installazioni hanno trasformato le strade e i palazzi della nostra città in un incanto scintillante, accompagnato da spettacoli itineranti e concerti. Un'atmosfera che il concorso Illumine il tuo Natale, indetto dal comune e fortemente voluto dal sindaco tedesco, trasformerà in una testimonianza concreta e di amore per il proprio territorio. C'è tempo fino al prossimo 10 gennaio per partecipare, dopodiché gli autori dei tre migliori scatti scelti da una giuria selezionata riceveranno dei premi in denaro da 750, 500 e 250 euro. Per tutte le informazioni potete leggere l'articolo su www.trcgiornale.it. Dopo un dicembre con aspettative non altissime c'è un gennaio da non tralasciare assolutamente per l'NC Civitavecchia. Nelle prossime settimane al ritorno in vasca dopo il periodo di sosta ci saranno degli impegni delicati per i Rosso Celesti per poter giungere alla salvezza in questa stagione. Ascoltiamo il servizio. La situazione è delicata ma non è tragica, è quello che sta avvenendo per l'NC Civitavecchia nel campionato di Serie A2. Dopo la coraggiosa decisione di metà ottobre di accettare il ripescaggio nella categoria cadetta da parte della Fin c'è stato molto da lavorare per i Rosso Celesti. Il grande entusiasmo del gruppo ha dovuto picchiare forte contro la dura realtà del Girone Sud che alla sosta per le festività di fine anno ha portato Romiti e compagni all'ultimo posto del raggruppamento con tre punti in compagnia del Pescara. Da un punto di vista squisitamente personale ad inizio stagione la speranza era quella di vedere un Civitavecchia che dopo le prime sette partite potesse presentarsi alla pausa con sei punti nel carniere ottenuti nelle sfide casalinghe contro Ancuna e Latina. Se contro i marchigiani il compito è stato rispettato con i pontini è avvenuto qualcosa di clamoroso ovvero la vittoria degli ospiti dopo che l'NC aveva buttato nelle acque del Palagalli un vantaggio di cinque gol. Sono solo tre attualmente i punti di distacco dalla zona salvezza diretta. La sensazione è che nella parte destra della classifica ci sia un gruppo di squadre il cui valore non è molto distante tra di loro cosa che può permettere al sette di Marco Pagliarini e Aurelio Baffetti di potersi giocare le proprie chance. Ma al ritorno in vasca servirà qualcosa in più. In alcune occasioni è mancato da quel che si è visto quel sacro fuoco che una squadra che vuole riscattarsi e dimostrare qualcosa per evitare una marissima seconda retrocessione consecutiva ci deve far vedere in maniera forte e coinvolgente. Se il mese di dicembre non prometteva molto bene per il calendario quello di gennaio rappresenta un discorso completamente diverso. Trasferta a Napoli con l'acqua chiara, impegno casalingo con l'ischia e poi volo a Palermo a fine mese. Sono tre impegni in cui l'ANC non può permettersi di rimanere a bocca asciutta. Ogni meccanismo sia difensivo che offensivo dovrà funzionare per evitare che con la palla in mano ci siano poche opportunità di andare a segno come accaduto contro l'Olympic e che nel reparto arretrato si riesca a sbarrare ancora di più la strada agli assi avversari. Intanto proprio contro i romani si è rivisto in vasca Giordano Visciola. Il portiere può dare un tocco importante sia tra i pali ma anche e soprattutto per dare la carica e la spinta giusta ad un gruppo di giovani ai quali è richiesto di esprimersi sempre e comunque al 100%. Un amore così grande. Non parliamo della canzone lanciata da Claudio Villa e poi riproposta dai Negra Amaro e dal Volo ma del libro che sarà presentato giovedì 12 gennaio alle 17.30 all'Aula Pucci del Comune. Si tratta di un'opera a cura del noto giornalista Massimo Cicognani e che tratta della storia ultracentenaria del Civitavecchia Calcio e del Movimento Locale. L'ideazione è stata del general manager del club Ivano Iacomelli che ha coinvolto proprio Cicognani, fresco dell'esperienza di Incatar per seguire il Mondiale di Calcio. La presentazione sarà aperta a tutti i cittadini e a tutti coloro che hanno i colori nero-azzurri nel cuore. All'evento parteciperanno anche molte storiche figure del club. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, Youtube, Instagram oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it 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 www.trcgiornale.it